Stuprata dal branco a 17 anni, è successo a Nereto, nel centro storico. Una brutale violenza denunciata dalla ragazza prima ai genitori e poi carabinieri della locale stazione. Un inquietante episodio che molto probabilmente ha coinvolto più persone, forse conoscenti della giovanissima, forse extracomunitari. Ieri infatti, dopo la denuncia della vittima, è stato fermato un giovane marocchino. L'uomo, un nullafacente, è in stato di fermo con l'accusa di violenza sessuale. E proprio oggi dovrebbe esserci l'udienza di convalida d'arresto davanti al giudice per le indagini preliminari. L'inchiesta comunque è avvolta da uno stretto riservo, proprio perché gli investigatori sarebbero alla ricerca di altri violentatori. E anche dalla procura di Teramo sono tutti abbottonati. La violenza si sarebbe consumata nella notte tra lunedì e martedì. La ragazza, che molto probabilmente conosceva i suoi guzzini, sarebbe stata trascinata con l'inganno in un luogo appartato e poi l'avrebbero costretta a spogliarsi ad avere un rapporto sessuale, anche colpendola con schiaffi e pugni. La diciassettenne, che dopo la violenza è tornata a casa e raccontato tutto i genitori, è stata infatti portata all'ospedale di Sant'Omero per farsi medicare alcune ferite al volto, in particolare al naso. Quel che si evince comunque in questa vicenda è che ci sono molti punti oscuri, punti che potrebbero essere chiariti oggi quando la ragazza, ancora in evidente stato di shock, verrà riscoltata dai carabinieri della compagnia del Badriatica, coordinati dal capitano Quagliozzi, titolari dell'indagine.